Ti prende tutte le libertà che vuole, qua siamo a casa e tutto ambiente è stupendolo. Questo lo mettiamo là, questo... Maria Benedetta dell'ingoroneta, salvami tu e lo buttiamo giù, ecco qua. Che altro devo fare? Oh, che carino questo. Si vede un occhio solo, sembra la cintura di Moshe Dayan, che cos'è? L'ho comprato in America, serve per gli occhiali, originale, vero? Anche mio fratello ce l'ha, serve per reggere le...